È abbastanza pericolosa eh, stavo per scendere questa discesa qua Quindi è stato un piacere No, di là, Brando, di là Là, no, no, non si può Io sono sceso sano e salvo Ora tocca a Francesca, guardate, è arrivata sua adesso Brando ha dovuto dargli una mano il ragazzo Perché sennò ci metteva due ore Attenzione eh Francesca non lo sa, ma si va veloce e si spaventerà Francesca fa una Grazie, è lo spettacolo qua Vieni, Brando, vieni che andiamo giù Spettacolo, il berlino è spettacolare Ragazzi, qua a Berlino A parte che c'è una fotografa lì Si respira già un'area natalizia Davvero Siamo arrivati in camera da poco Ho avuto il telefono scarico tutto il giorno Quindi non ho potuto fare altri video Comunque Berlino spacca Mi devo ricredere proprio al 100% Fa veramente paura Meraviglioso Ragazzi, siamo stesso posto, stessa ora di ieri sera Allora, ora mi deve lasciare stare Allora, perché lui ha fatto il rifugino Quindi è attivo Vero che sei attivo? No Come no? Sei attivo? No Come no? Ragazzi, finalmente posso parlare Ragazzi, Brando ha imparato il tedesco Fagli sentire il tedesco Parla tedesco? Yes Visto? Grida Grida Da Allora ragazzuoli Stiamo andando a mangiare Praticamente siamo finiti Credo in una zona Tipo Chinatown Non so Mi sembra Non so se si vede Da lì in poi Inizia tutti i ristoranti cinesi I sushi Allora, il mio piccolino Sta mangiando la pizza Ti sei bruciato, amore? La taglio Guardate quanto è bella sta donna, ragazzi Che grassa Sei anoressica, sei Siamo Direzione Zoolander Siamo allo zoo Cioè, stiamo per entrare allo zoo Ancora chiuso Stiamo facendo la nostra colazione Con il nostro coffio americano Di Starbucks Hot chocolate Lei hot chocolate perché siamo inglesi Allora Quello di cos'è, un bambi? Un cerbiatto È un cerbiattino Lì abbiamo Cerbiattini Non so se si vedono Qua 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 cosa c'è Hai visto? C'è il tuo fratellino Guarda Sì, stiamo per entrare Nel mondo Le scimmie Quindi se non mi vedete tornare È stato un piacere Va bene? Ciao amore Bocca al lupo Ma non si muove Mamma Come non si muove Vero, eh Non mi somiglia Mamma Mamma Non mi somiglia, bravo Comunque ti be È un gorilla È un gorilla Questa qua, ragazzi, è Francesca Lazzarona Guardatele Francesca, guarda Versione Lazzaronaggine Mamma Guarda la mamma Guarda la mamma lì seduta Sdraiata, vedi? Le vedi? Ti piacciono le scimmie? No Mi piace Il gorilla? No, i lupi I lupi Eh Comunque ragazzi Non so se è red Ma è enorme Ma, ma è enorme Ma, ma è enorme Ma, ma è enorme Ma è enorme che si sposta, invece di parlare con la scimmia è la zona del cibo credo che gli danno, è già tutto pronto perché mi sa che Vercef ogni due ore gli danno da mangiare, credo, ora non mi ricordo, ho letto prima, eh ma scogliate non mangio né formaggio, amore qua, qua, qua